l'alba sta sorgendo salutate il nuovo giorno finalmente siamo arrivati alla parte pratica di questa serie abbiamo finito la parte teorica in cui abbiamo discusso di questo e di quest'altro anche se in maniera non troppo specifica e adesso vediamo cosa fare concretamente per migliorare la nostra situazione facciamo un breve recap diciamo di tutta la parte teorica abbiamo collegato la salute dei nostri capelli alla salute del nostro metabolismo perché lo ripetiamo per la diecimillesima volta quando le cellule ricevono e producono tanta energia sono solide sane e giovani al contrario quando le cellule producono e ricevono poca energia collassano e muoiono lo stesso vale per le cellule dei nostri follicoli pilliferi che sono gli organi che producono i capelli per cui se vogliamo avere tanti capelli capelli in salute vogliamo che gli organi che producono i capelli siano in salute e se vogliamo che gli organi che producano i capelli siano in salute vogliamo che le cellule di cui li compongono siano in salute. Per cui un metabolismo efficiente ed elevato è collegato a cellule sane, organi sani e nel nostro caso capelli sani, ma in generale è sano per tutto l'organismo. La prima cosa di cui dobbiamo parlare sono i parametri, cioè cosa misurare, cosa osservare per capire se stiamo migliorando o no. Abbiamo due parametri principali per capire se il nostro metabolismo è in salute o se non è ancora salute, comunque sta migliorando. Uno è la temperatura corporea e due è il battito cardiaco. Parliamo prima della temperatura corporea. Uno dei segni di ipotiroidismo, cioè di basso metabolismo più comuni, è la sensazione di freddo, è un'intolleranza al freddo, avere mani e piedi sempre freddi anche in primavera o addirittura anche in estate, proprio non riuscire a uscire l'inverno e magari anche stando in luoghi chiusi e tenendo la giacca addosso comunque soffrire in qualche modo il freddo. Ecco, questo è uno dei principali sintomi di ipotiroidismo e di un metabolismo non in salute per niente. E qualcosa mi dice che molti di voi soffrono di questo problema dal momento che il metabolismo e salute dei capelli sono collegati e se state guardando questa serie probabilmente state perdendo i capelli. La stessa cosa valeva per me. Quando ho iniziato a perdere i capelli e a perderli molto velocemente soffrivo il freddo in una maniera tremenda. Potevo dormire la notte in casa riscaldati con la giacca a vento più o meno e non avere il minimo caldo, anzi sentire ulteriormente freddo. Era terribile. Comunque, qual è la temperatura corporea ideale? La temperatura corporea ideale si aggira intorno ai 37 gradi centigradi nel momento massimo della nostra giornata. Per tanti 37 gradi può sembrare qualcosa di alto, può sembrare quasi febbre, ma persone giovani in salute funzionano a loro meglio a questa temperatura. Come misurare la temperatura corporea? Beh, semplicemente con un termometro che tutti avremo in casa. La cosa migliore è misurare la temperatura in tre momenti diversi della giornata. La mattina appena alzati, prima di colazione, dopo pranzo e la sera prima di andare a letto. Di solito dopo pranzo o nel pomeriggio avremo il picco della nostra temperatura, la temperatura corporea più elevata della giornata e più si avvicina in quel momento a 37 gradi meglio è. Come facciamo a vedere se miglioriamo nel corso del tempo? Semplicemente prendiamo un taccuino, un diario, un quaderno, un file di excel e segniamo la nostra temperatura corporea in questi tre diversi momenti della giornata. Poi ogni giorno o ogni settimana andremo a rimisurare la nostra temperatura e vediamo se c'è un miglioramento nel corso dei giorni, delle settimane o dei mesi. Attenzione però, anche gli ormoni dello stress come cortisolo, eccetera, possono aumentare la temperatura corporea e ingannarci. Tante volte gli ormoni dello stress mascherano un ipotiroidismo, mascherano un metabolismo non efficiente perché aumentano la temperatura corporea. Come fare per cui a capire se la nostra temperatura corporea è elevata a causa di un metabolismo salutare o a causa degli ormoni dello stress? Basta misurare la temperatura prima e dopo colazione. In caso di metabolismo salutare la nostra temperatura dopo colazione aumenterà a causa del cibo, degli zuccheri, eccetera. Al contrario, se la nostra temperatura è elevata a causa degli ormoni dello stress, dopo colazione la nostra temperatura calerà. Perché? Perché per esempio gli zuccheri abbassano gli ormoni dello stress come cortisolo, adrenalina, eccetera. E abbassandosi questi ormoni dello stress essi non agiscono più e se la temperatura era elevata a causa loro la temperatura non sarà più elevata. Per cui quando sono gli ormoni dello stress la temperatura dopo colazione abbasserà. Quando è alta a causa di un metabolismo salutare la temperatura dopo colazione aumenterà. Il secondo parametro è il battito cardiaco. Spesso ci dicono che avere un battito cardiaco il più basso possibile è meglio perché un cuore che batte poco è più efficiente. In verità abbiamo visto che non è così. Più lentamente un cuore batte, più batte debolmente di solito. Al contrario di quello che può sembrare logico perché dicevi che batte poco allora batte più forte. Non è vero. al contrario quando il cuore batte più velocemente di solito batte anche più intensamente. E avere un battito veloce e intenso è importantissimo perché la circolazione sanguina è tutto per portare energia e ossigeno e nutrienti alle cellule. Il battito cardiaco ideale si gira attorno agli 85 battiti per minuto. Come misurare? Beh possiamo usare lo strumento per la pressione di cui non mi viene in mente o comunque dotarci facilmente comprandolo su internet a pochi euro di un meccanismo di uno strumento adatto. Fate attenzione anche qui perché anche in questo caso gli ormoni dello stress possono ingannarci e mascherare una situazione di meccanismo inefficiente. Visto che ormoni dello stress come l'adrenalina aumentano il nostro battito cardiaco. Per cui come facciamo a capire se il nostro battito cardiaco è elevato a causa di un metabolismo efficiente o a causa degli ormoni dello stress? Qua è un po' più complicato. Dobbiamo dare un po' sensazioni e vedere se siamo rilassati o no. Quando il nostro metabolismo è efficiente in salute e abbiamo un battito cardiaco elevato siamo comunque rilassati. Possiamo stare sdraiati sulla maca, sulla poltrona, spaparanzati sul divano e sentirci assolutamente rilassati. Possiamo dormire, possiamo guardare un film nella massima calma. Al contrario, quando il nostro battito cardiaco è elevato a causa degli ormoni dello stress avremo quella costante sensazione di ansia, quella costante sensazione che ci impedisce di rilassarsi. Siamo sempre ansiosi e sentiamo di dover sempre far qualcosa e non riusciamo a lasciarci andare veramente. Ecco, in quel caso il nostro battito cardiaco è elevato a causa degli ormoni dello stress. Oppure non riusciamo neanche a dormire se abbiamo il battito cardiaco elevato a causa degli ormoni dello stress. Al contrario, quando il nostro cuore batte velocemente a causa di un metabolismo salutare, riusciremo a prendere sonno molto più velocemente. L'insonnia, anche questa, è uno dei sintomi di un basso metabolismo. Comunque, questa parte su il come misurare i nostri miglioramenti finisce qui. Naturalmente mi sono dimenticato di dirlo, ma anche segnare il battito cardiaco su un taccuino, un diario, un quaderno o su un file di Excel e vedere come cambia nel corso dei giorni, settimane e mesi è importante. Mi sembrava implicito e non l'ho detto. Comunque sì, misuratele tutte e due, segnateli e vedete se nel corso del tempo essi migliorano o no. Questa parte finisce qui. Nella prossima parte andremo a vedere cosa è più utile mangiare, partendo dalle proteine e poi affrontando tutti gli altri argomenti in maniera più concreta. finalmente. Non mi rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolti dalle fiamme non è poi così male. Augurarvi una giornata produttiva e dare appuntamento al prossimo video.